L'evoluzione passa, a volte, anche dalla dimensione, in termini di qualità e di conforto nello spazio, chi ha deciso letteralmente di far le cose in grande con il suo nuovo SUV o no, com'è? Le dimensioni contano, se non in tutti gli ambiti, per certi versi, questo vale almeno nel mondo delle auto, laddove una fetta di clienti cerca sempre più uno spazio di comfort maggiore. E Kia, che da questo punto di vista ha fatto parecchi passi in avanti già in passato, pare aver letto questa esigenza con dovizia di particolari, alla luce dell'evoluzione del suo nuovo SUV o no, con del dimensioni monstre, conta su 3100 mm, ruote fino a 21 pollici, una lunghezza di oltre 5000 mm, larghezza di quasi 2000 e un'altezza PA con del dimensioni monstre, conta su 3100 mm. All'interno questo veicolo gigante conta 6 o 7 posti, adattando i sedili delle seconde file per offrire soluzioni diverse di abitabilità interna. All'interno questo veicolo gigante conta 6 e poi, c'è tutta l'evoluzione. Sorprende poi l'aspetto elettrico, con una batteria da voltaggio pari a 800 volt e questo fantastico veicolo permette di avere una capacità di autonomia pari a oltre 540 mm. Sorprende poi l'aspetto elettrico e nello stesso tempo è possibile immagazzinare energia in grado di fornire una percorrenza di circa 240 km in circa un quarto. Il motore le consente anche ottime prestazioni. Nel merito, lo 0 a 100 si ottiene in bec con la potenza dei due motori elettrici in AWD si arriva a una potenza che lo fa scendere a 6 secondi.